Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui per i pronostici della ventesima giornata di Serie A ovviamente lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, mettete like anche sulla campanella cliccate sulla campanella e così rimarrete sempre aggiornati sulle novità e vi invito anche a vedere ovviamente il video uscito oggi a mezzogiorno sulle live reaction della Supercoppa Juventus Milan e ovviamente tutti gli altri video del canale ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito con le partite di questo weekend che si protrarrà fino a lunedì sera e vediamo dunque, entriamo nel dettaglio cominciamo con Roma-Torino, Roma-Torino è una partita secondo me molto difficile per la Roma si giocherà sabato alle 3, non è facile ragazzi, il Torino è una squadra tosta da affrontare sono convinto che la Roma alla fine il risultato lo faccia, però troverà molta fatica io metto l'1 della Roma sicuro, cioè sicuro, metto l'1 della Roma però metto anche gol, perché se me tutti e due segneranno alle 18 c'è Udinese-Parma non voglio perdermi troppo in chiacchiere, ma secondo me il Parma ha qualcosa in più dell'Udinese secondo me andrà a far risultato x2 Parma alle 20.30 Inter-Sassuolo, qua non ci perdo molto tempo, metto l'1 dell'Inter anche perché Sassuolo ultimamente non c'è, soprattutto in fase difensiva vedo un De Zerbi troppo Zeman e quindi Sassuolo secondo me farà molta fatica adesso perché se giochi completamente in attacco senza curare la difesa come sta facendo Sassuolo vai male e infatti Sassuolo sta facendo molto male e ultimamente proprio per quello cioè finché hai la gamba, c'è delle prime giornate, ce la fai dopo, crolli quindi metto l'1 dell'Inter senza neanche pensarci Frosinone-Atalanta, siamo arrivati a domenica alle 12.30 e credo l'Atalanta vinca, dai due Atalanta senza star troppo a pensarci siamo domenica alle 3 le partite di domenica alle 3 sono solo due alla fine perché ci sono Spal-Bologna e Fiorentina-Sandoria Fiorentina-Sandoria metto l'1 della Fiorentina così, non lo so, è ispirazione, non c'ho una logica Spal-Bologna secondo me finirà in pareggio una bella X e tutti contenti insomma alle 18 Cagliari-Empoli metto l'1 a Cagliari perché l'Empoli francamente la vedo un po' poca cosa alle 20.30 c'è Napoli-Lazio ora francamente è vero che sulla carta è una partitona però la Lazio con tutte le squadre forti è crollata su se stessa collassando io credo che il Napoli vinca chiaro che da Juventino per la classifica spererei il contrario però onestamente con tutto il bene che si possa volere alla Lazio eccetera ma credo che il Napoli vinca e vinca anche abbastanza agevolmente allora poi invece lunedì chiuderà la giornata si chiuderà questa giornata e ci saranno due partite molto interessanti soprattutto perché ci sarà molto da vedere come sarà assorbita la Supercoppa di Jedda alle 3 c'è Genoa-Milan Genoa-Milan è una partita che in teoria è facile per il Milan però la situazione non è molto piacevole per il Milan la sconfitta in Supercoppa ieri il caso Higuain un ambiente che non è per niente sereno insomma c'è un po' di casini e quindi è assolutamente difficile di difficile gestione qua mi sento di dare l'X perché ormai il Genoa non batterà il Milan ma non sono così convinto che il Milan batta il Genoa quindi per me un pareggio non sarebbe così scandaloso e anche perché bisogna vedere come evolverà la situazione di Higuain la situazione Piontech la situazione sostituto di Higuain insomma un casino un casino quindi insomma è alla fine ah poi c'è il viaggio da smaltire che ce l'avrà anche la Juve però la qualità della Juve secondo me è comunque superiore nettamente di quella del mio quindi assolutamente mi giocherei mi giocherei l'X ecco alle 20.30 di lunedì c'è Juventus Chievo ora attenzione perché Juventus Chievo è una partita il Chievo è ultimo ma non è la più scarsa della Serie A cioè questo intanto c'è da dirlo perché c'è da dire che il Chievo ha avuto dei risultati non proprio scarsi ha pareggiato con l'Inter ha pareggiato con Napoli insomma ha creato qualche storia di non poco conto un po' a tutti e la Juve come il Milan deve smaltire il viaggio di Jeddah cosa vuol dire? che secondo me alla fine la Juve vince però non sarà una partita così scontata anzi sarà una partita molto molto difficile perché il Chievo ovviamente venderà cara la pelle quindi assolutamente attenzione a questa partita si vince ma si farà molta molta fatica a mio avviso ragazzi sono finite le partite di questa giornata a me non resterebbe solo che salutarvi ma volevo rinvitarvi ancora a tutti a seguirmi su tutti i vari social quindi seguite cliccate dove vedete fuori rosa tv cliccate su Daily Mush YouTube Facebook Twitter Instagram Twitch che più ne ha più ne metta seguitemi ovunque a me non resta che salutarvi darvi appuntamento per i prossimi video del canale ciao